Come comprare Shiba Inu Bitcoin Criptovalute con la carta di credito Ciao ragazzi, benvenuti a tutti all'interno di questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove andremo a parlare appunto di come comprare criptovalute con la carta di credito Ma per prima cosa vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere Iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale di Topcoin Italia Mi raccomando, vi lascio il link sotto in descrizione Binx, già ne ho parlato in diversi video, è un exchange conosciuto all'altra parte del mondo E vuole diventare importante anche in Italia e soprattutto in Europa Ho parlato di come funziona, cosa si occupa, cosa possiamo andare a fare col copy trading, come sbloccare i bonus E nel video di oggi appunto vi faccio vedere come comprare criptovalute con la carta di credito In questo caso Binx, a differenza di molti exchange, possiamo andare a comprare criptovalute anche senza la verifica dell'account Quindi possiamo anche andare a comprare queste cripto senza verificare la nostra identità Come si fa? In questo caso ragazzi basta andare su buy crypto, ok lo vediamo qui questa parte E dobbiamo cliccare su buy crypto with cards Clicchiamo e dopo che abbiamo cliccato appunto ci aprirà questa schermata Noi ovviamente dipende come vogliamo andare a pagare C'è euro, ci sono anche e soprattutto sterline e tutte le altre valute di tutto il mondo Anche valuta araba, quindi veramente niente male Noi che cosa dobbiamo fare? Facciamo, dobbiamo mettere il minimo tra 19 Quindi meno di 19 non possiamo andare a depositare E massimo di 4.700 euro Però ovviamente se facciamo più ordini insieme Quindi se vogliamo fare caso possiamo mettere 10.000 euro Facciamo un esempio Basta fare 4.700 il primo ordine e poi 4.700 il secondo ordine Quindi in questo caso non c'è limite Allora per quanto riguarda facciamo caso mettiamo 50 euro, ok? E poi dopo che abbiamo comprato una crypto tra USDT, ETH e Bitcoin Quindi una di queste 3 crypto possiamo andare a comprare con la carta di credito Noi inseriamo in questo caso USDT perché comunque è una stablecoin E rimane il suo valore Quindi non può né scendere né salire E poi dobbiamo scegliere il servizio C'è MoonPay, Banksa e EDVCash In questo caso quello che vi consiglio è di vedere soprattutto il metodo di pagamento Quale metodo di pagamento ha la vostra carta Ad esempio Mastercard, Visa, Maestro C'è anche Apple Pay e Google Pay Bonifico SEPA e veramente tante altre Invece Banks c'è SEPA, Visa, Mastercard, Deal Poi anche Google Pay Invece sulla schermata destra dove vediamo l'ordine Vediamo che noi paghiamo 50 euro Riceviamo 53 USDT e tutti questi numeri Vediamo il rate, in questo caso un USDT equivale a 94 euro E ovviamente ragazzi in questo caso vediamo anche e soprattutto il tempo di arrivo Che equivale tra 1 minuto e 15 minuti Mentre con Banksan vediamo che noi paghiamo 50 euro Quindi dobbiamo stare attenti anche e soprattutto in questa cosa Riceviamo 49 USDT Mentre qui se ci avete fatto caso è 53 USDT E ovviamente il rate equivale 1 USDT uguale 1 euro E il tempo di arrivo è di 2 e 30 Tra i 2 e i 30 minuti Mentre è di Bcash Ovviamente in questo caso il rate è di 1 USDT e 98 centesimi E il tempo di arrivo ovviamente è minore Diciamo minore come tempo massimo Però ovviamente in questo caso quello che vi consiglio è Qualora avete e combaciano il metodo di pagamento con la vostra carta È MoonPay Dopo che abbiamo inserito la carta di credito e confermato l'acquisto Dobbiamo andare su spot Ok e inseriamo appunto spot Dopo che abbiamo cliccato ovviamente qui sulla sinistra Dobbiamo scegliere l'asset che vogliamo andare a convertire i nostri USDT oppure Bitcoin oppure ETH In questo caso USDT ok con Shiba Inu Clicchiamo qua e poi sulla destra vedete che c'è scritto market limite Dobbiamo inserire quanto noi abbiamo acquistato in USDT Li convertiamo e appunto riceviamo tutto in Shiba Inu Quindi ovviamente potete fare questo passaggio con tutte le crypto che vedete Soprattutto all'interno di questa schermata Ok Mentre per andare a convertire in una maniera completamente più semplice Basta cliccare qui ok su convert Inserire USDT e poi decidete se c'è la crypto che a voi interessa qui in mezzo Ad esempio Filecoin e possiamo convertire i nostri USDT in Filecoin Se questo video vi è stato utile mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao